La cosa importante è che questo nasce da una... Posso dire una cosa su molti culti? Per dirti l'assurdità dell'hip hop Nei artisti ospiti c'è Kadim, che è un ragazzo senegalese Di Bass, che rappa in tedesco, è tedesco ma del Congo originario E c'è Deka, che è un ragazzo americano, ma di origine italiana Il pronipote di Elio Vittorini Questo per farti capire, chi penserebbe mai a scuola, studiando e leggendo Vittorini che il pronipote sarebbe stato uno dei rappresentanti in America dell'hip hop Ha aperto anche concerti a Giarul, quindi artisti importanti Eppure in questo fare hip hop usa sempre poi a volte delle parole il romano perché è legato molto a Roma, che è la città comunque da cui origine poi diverso dalla famiglia Per cui per dire che l'hip hop è talmente devastante che riesce a colpire nei posti le persone più pensabili Guarda, in questo album, in questa canzone ti sei al valso della collaborazione di un artista senegalese un altro tedesco, un altro americano Stiamo parlando di Kadim, di Boss e Deka Praticamente perciò io penso che questa canzone possa in qualche modo racchiudere tutto quello che abbiamo detto fino adesso e possa rappresentare regnamente appunto la canzone finale per il nostro collegamento e per la promozione appunto di questo album che ricordiamo Scaricate anche da Mule però se vi piace andate nei negozi di disc, nei migliori negozi per acquistarlo Penso che sia un giusto compromesso, sono contento che sia facendo tanto la critica e man mano che lo ascoltano anche le persone quindi buon ascolto a tutti, buona giornata e un abbraccio E noi ci associamo a questo patto appunto, noi ci ascoltiamo la linea pasta alla regia per ascoltarci appunto dall'album appunto di Piotta Multiculti, l'omonimo brano Ciao Tommaso e ascoltiamo insieme questo brano Ciao Radio Roma Siete su Radio Roma Radio Roma Radio Roma